Il gioco Once Human che crash ovviamente se provi ad entrare in un server e cominci a giocare ti crasha il gioco oppure quando provi ad avviarlo non si avvia oppure se lo avvii ti crasha direttamente nel menu principale quindi in questo caso è possibile risolvere il problema aggiornando tantissime cose sul pc e aggiornando anche i driver per la scheda video quindi in questo caso iniziamo prima ad andare su Steam ovviamente la guida è sia per Steam che per Epic Games quindi io avendo il gioco su Steam vi spiegherò lo stesso quello che devi fare su Epic Games andiamo direttamente su Steam, rotella, proprietà, file installati prova direttamente a fare la verifica integrità dei file del gioco se non dovesse funzionare vai su sfoglia i file locali scendiamo fino a giù fino a trovare così il programma .exe tasto destro sopra mostra attropazioni proprietà compatibilità esegui questo programma come amministratore su generale invece attributi togli così la spunta su solo lettura quindi deve rimanere solamente il quadrato bianco sia su solo lettura che nascosto firme digitali ci clicchiamo sopra visualizza il certificato installa il certificato utente corrente facciamo avanti e l'abbiamo fatto abbiamo importato anche il certificato e fare ok una volta fatto chiudiamo qua su Epic Games invece quello che ti posso dire è andare direttamente sui tre puntini del gioco quindi in questo caso tre puntini gestisci e fai la verifica al gioco ok oppure stessa cosa vai direttamente nella cartella e fai la stessa cosa che ho fatto su Steam e chiudi qua se non dovesse funzionare andiamo direttamente su nostro logo di Windows qua sotto tasto destro sopra gestione dispositivi scendere fino a giù fino a trovare schede video la tua scheda video aggiorna driver cerchi driver nel computer e scegli da un elenco di driver disponibili metti il primo fai avanti e installi così questo driver per la tua scheda per fare un altro aggiornamento sulla tua scheda puoi andare direttamente sul sito che ti ho lasciato in descrizione puoi usare oggi GeForce Experience oppure Nvidia App è la stessa cosa puoi direttamente scaricare i driver da uno di questi due programmi di Nvidia per AMD invece abbiamo il driver supporto per processori e schede grafiche tutto in descrizione scegli così la tua scheda grafica o processore cerca e scarichi così il tuo driver e lo installi una volta installato riavvia il tuo sistema operativo quindi per Nvidia io vado direttamente sul mio programma Nvidia App driver ed eccole qua cerca aggiornamenti e installa il tuo aggiornamento driver studio drive gamer ready lasciati il 27 di giugno l'ultimo su driver game ready e devo fare reinstalla ma io già lo tengo installato l'aggiornamento una volta fatto passiamo direttamente ai primi tre link di web install directx and user runtime devi scaricare questo accetti così il contratto fai avanti togli la spunta da qua fai avanti e installi così per l'installamento per directx e fai fine una volta fatto puoi anche chiudere questa scheda passiamo direttamente a Microsoft Visual C++ il primo scarichi tutti e tre questi programmi e le installi tutti e tre una volta installati devi riavviare il sistema poi abbiamo i net framework in descrizione in descrizione ti ho lasciato il link di questa pagina qua quindi l'aggiornamento del 9 di luglio 2024 quindi scarica .net sdk per 64 fai di clic per scaricare manualmente ed eccolo qua esegui come amministratore se non riesci a sopportare uno di questi programmi di net framework poi semplicemente puoi andare semplicemente su quest'altra pagina che ti ho lasciato in descrizione e scaricare la versione 4.8.1 del 2022 quindi io faccio installo così questa versione installazione completata e faccio chiudi once human lo devi sempre avviare attraverso il launcher non avviarlo mai sul desktop quindi vai direttamente sul tuo epic games oppure su steam e fai su gioca una volta fatto tutto questo quindi scaricati così i driver net framework driver nvidia e amd non ci resta che avviare così il gioco che avviare che avviare che avviare vai direttamente su settings andiamo su video modalità schermo intero per non avere problemi di crash performance attiva così il v sync se per esempio riesce a fare al massimo 63 70 fps quelli sono gli fps che riesce a fare tenendo sui 60 fps frame rate metto 120 e faccio applico lo tengo fisso sui 120 poi da texture metto low scala di rendering lo tengo sui 75 e faccio applico quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video cercherò di utilizzare altre guide a riguardo sul gioco questi erano i metodi per aggiornare così i driver per il tuo windows un'altra cosa che puoi fare è aggiornare anche i driver su windows update quindi aggiorna sempre windows update fai aggiornamenti via il sistema aggiorna la scheda video il processore tutti i driver per microsoft e una volta fatto riavvia il sistema e basta se non dovesse funzionare reinstalla il gioco e fai la verifica di integrità su once human quindi grazie a tutti per questa visione non ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao